120 famiglie ostaggio dei liquami accade a paolo sesto sono costretti a schivarli perché fuoriescono senza sosta dai tombini la denuncia del sunia anche nel tarantino corsa gli scaffali e tira nuovamente fermi da questa mattina il prezzo del carburante continua a salire stop e manifestazioni in tutta italia un accesso agli atti per capirne di più è l'ultimo capitolo della nostra vicenda del progetto per un porticciolo turistico non gradito dai residenti in località torre blandamura buon pomeriggio e bentrovati con l'informazione in diretta di antenna sud questa mattina siamo stati al quartiere paolo sesto di taranto lì dove ormai da tempo si presenta una situazione invivibile per la cittadinanza e c'è il sunia che sostiene queste rimostranze liquami in strada e non soltanto perché arriverebbero anche all'interno delle case guardate come ho detto a una persona che ho cacciato di qua che la politica va messa da parte noi vogliamo vivere degnamente però adesso si fanno vedere tutti noi non vogliamo vedere nessuno vogliamo vedere solo i fatti basta siamo stanchi un messaggio forte e chiaro diretto a chi è impegnato nella propria campagna elettorale qui servono i fatti quasi 200 famiglie ostaggio dei liquami accade al quartiere paolo sesto di taranto sono costretti a schivarli perché fuoriescono senza sosta dai tombini da anni ormai oggi la denuncia del sunia qua siamo nella terra di nessuno cioè la terra non riconosciuta né dal comune di taranto né dall'arca ionica e né dagli enti diciamo la cupia e quant'altro sono da anni che stiamo combattendo come dicevo prima nel 2019 abbiamo fatto una serie di riunioni anche con l'ultima amministrazione con l'assessore vigiano ma qui ad oggi si rimbalzano le responsabilità intanto i cittadini stanno nei liquami perché qua ogni due giorni ogni tre giorni bisogna chiamare l'autospurgo bisogna intervenire per i lavori strutturali cioè qui c'è un canale di fogne che ormai è spaccato e divisi in due e non basta soltanto fare come dire l'intervento diciamo così per spurgarlo qui bisogna intervenire pesantemente a cambiare le dubbature qui ci sono dei bambini che giocano ci sono degli anziani che non possono uscire di casa i tempi burocratici italiani non ci danno la possibilità di far stare sicura la gente bisogna intervenire subito sono tre anni che vivo qui e dal primo momento che sono venuta ad abitare ho sempre ho visto il degrado purtroppo di questo quartiere abbandonato da dio voltiamo pagina tir fermi in deposito a taranto l'aumento vertiginoso dei carburanti prezzo che si aggiunge ad altri costi sostenuti da questa categoria rende sostanzialmente inefficace anche semplicemente partire un costo insostenibile chiedono allo stato almeno l'abolizione delle accise direttore gianni sebastio tir fermi nei depositi non si tratta di uno sciopero ma di una scelta degli autotrasportatori il caro carburanti ha messo in ginocchio la categoria e molti hanno deciso di rinunciare ai viaggi a causa delle eccessive spese che rendono l'attività anti economica per un viaggio dalla puglia alla lombardia fanno sapere c'è stato un aumento rispetto a dicembre scorso che supera i 200 euro una situazione che per molti autotrasportatori è diventata insostenibile a tal punto da scegliere di restare con i motori dei loro tir spenti diciamo che di chiamare la protesta forse è anche troppo diciamo che dobbiamo stare fermi dobbiamo stare fermi nei parcheggi perché il costo del gasolio aumenta la tariffa su un tratto nazionale di circa il 30 40 per cento rispetto alle tariffe di dicembre ora chiediamo allo stato di intervenire possibilmente sulle accise far tornare le tariffe del gasolio almeno a quelle riferite al mese di dicembre è chiaro che non è soltanto una questione di trasporti è una questione di pescatori una questione di agricoltori ritengo che in questo discorso del gasolio sia coinvolto tutto il paese il fermo dei mezzi dovuto al caro gasolio che impedisce le imprese di poter circolare per l'altissimo costo del carburante che sia la di blu il gasolio e il metano costringerà le aziende a non poter più consegnare in qualsiasi tipo di bene primario secondario e prodotti gli unici che stanno circolando sono quelli i cui committenti hanno voluto farsi carico di questi aumenti da qualche mese diverse segnalazioni di furto soprattutto nelle abitazioni isolate delle campagne di martina franca così la polizia in particolare il commissariato locale si è messo sulle tracce di un fiat doblò di colore celeste notato spesso in quelle zone dalle telecamere di videosorveglianza il mezzo è stato intercettato con due uomini a bordo un sopralluogo durato circa un'ora poi l'auto ha svoltato fermandosi nei pressi di una villetta lì in due sono scesi per a quanto pare prelevare dei capasoni dalla villetta e caricarli sull'auto a quel punto in quanto erano seguiti dagli agenti padre figlio di 60 e 32 anni non hanno potuto che ammettere la loro responsabilità sul furto in quella villetta sono stati accompagnati in commissariato e arrestati perché ritenuti presunti responsabili di furto in abitazione e adesso parliamo di agricoltura diverse le difficoltà sociali ed economiche in cui versano territori come la nostra Puglia e il Tarantino in particolare dato il momento storico che stiamo attraversando abbiamo fatto il punto con l'assessore regionale al ramo Valentina Faniulo un momento di forte preoccupazione dopo due anni di pandemia da Covid-19 la guerra ora blocca prodotti e provoca l'aumento dei prezzi necessario soprattutto in questo momento per l'assessore regionale all'agricoltura Donato Penta Suglia fare sintesi un momento delicatissimo di forti preoccupazioni mancava la guerra ci si è messa questo tema bellico che ha bloccato l'arrivo di prodotti aumentato a dismisura i prezzi oltre quello che avevamo come costo delle energie e costo delle materie prime in questo momento serve fare davvero sintesi la più veloce possibile e guardare alla semplificazione oltre che all'utilizzo appieno di tutte le risorse e anche di quelle che in maniera straordinaria bisogna mettere in campo perché il gasolio triplicato in alcuni casi come la pesca quattruplicato ci mette nella condizione davvero di stare vicino al mondo della produzione perché altrimenti qui davvero rischiamo di far saltare il sistema Penta Suglia dunque non ha dubbi fare rete è fondamentale Da soli non si può competere in questo momento lo era difficile prima diventa più difficile adesso quindi contratti di filiera cooperazione consorsi questo è il mix a mio modo di vedere ma anche dal raccordo con le agricole col partenariato con i comuni sta venendo a galla in maniera molto forte questo è il tema che ho posto anche in discussione con la commissione europea che forse vanno riviste alcune misure come con il ministro sia dell'agricoltura sia della transizione ecologica perché siamo pronti a fare il bando sulla transizione ecologica Un accesso agli atti e questo è l'ultimo capitolo almeno in ordine cronologico rispetto ad una annosa vicenda quella del progetto di un porticciolo turistico in località Torre Blandamura non proprio presa bene dai cittadini E' tutto recintato e tutto chiuso addirittura anche la strada di accesso al mare è stata bloccata con dei grossi massi A Taranto resta alta l'attenzione sulla pineta Blandamura quella faccia al mare miracolosamente rimasto intatto e preservato dalla cementificazione che in questo tratto è partita dagli anni 60 Come vi abbiamo documentato negli anni c'è la preoccupazione dei residenti in merito alla costruzione di un nuovo porticciolo turistico Un incontro di informazione e sensibilizzazione è stato promosso dai comitati Parco del Mar Piccolo e San Francesco degli Aranci Per capire bene cosa si può fare abbiamo fatto l'accesso agli atti al compresso il comune di Taranto abbiamo ricevuto proprio in questi giorni una parte della documentazione relativa a questo progetto studieremo le carte e poi ci muoveremo di conseguenza Economia circolare e cultura si fondono grazie all'intesa tra l'associazione Plastica Acqua e Chimambiente a Taranto I cittadini riceveranno libri usati in cambio delle bottiglie di plastica conferite Leo Spalluto Bottiglie di plastica in cambio di libri usati è un chiaro esempio di economia circolare Si consolida il rapporto tra Chimambiente e Plastica Acqua una delle associazioni che maggiormente si occupa di tutela ambientale nel territorio tarantino il progetto prevede che per ogni 10 bottiglie o flaconi in plastica o lattine in alluminio consegnate all'associazione in cambio si riceve un libro per conferire le bottiglie usate occorre recarsi alla sede dell'ecolibreria della Parco Cimino inoltre è necessario sciacquare i contenitori come previsto per la raccolta differenziata schiacciarli sul lato più lungo e rimuovere i tappi gli operatori di Chimambiente hanno segnalato la grande quantità di libri usati conferiti nei centri comunali di raccolta e nelle isole ecologiche e la direzione aziendale ha deciso di consegnarli a Plastica Acqua avendo in cambio bottiglie da riciclare Plastica Acqua ha ritirato nel centro raccolta del quartiere Paolo Sesso il primo stock di volumi raccolti da Chimambiente che ora sono a disposizione nella sede dell'ecolibreria nella Parco Cimino con la collaborazione del gruppo sportivo pulizia locale aperta tutti i martedì per il mese di marzo e d'aprile ogni due settimane il martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 l'appello quindi a tutti i cittadini di Taranto di venire ai CCR e alle isole ecologiche per consegnare carta, cartone, plastica, metalli come tanti e vetro come tanti di voi già fanno ma anche di portare dei libri che possano essere quindi riusati questo serve a incentivare la pratica del riuso grazie appunto alle donazioni di libri a diffondere cultura a costo zero gratuitamente e a diffondere anche quella cultura ambientale che spinge la gente grazie ad un piccolissimo incentivo a mettere in atto delle buone pratiche Contrasto alla pesta di Frogdo e delle attività illecite nell'ambito dell'intera filiera della pesca la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Taranto è intervenuta nelle scorse ore in collaborazione con i carabinieri forestali di Matera il reparto carabinieri biodiversità di Martina Franca individuando nelle acque antistanti il comune di Bernalda nel Materano un'unità da di porto con a bordo circa 10 kg di nove lame di sarda il cosiddetto bianchetto è stato sequestrato vedete in foto ed è stata elevata una sanzione amministrativa nello stesso tratto è stato poi individuato dallo stesso personale individuata in mare anche una rete da pesca illegale una cosiddetta sciabica ma è stretta di circa 100 metri di lunghezza e adesso la cultura, gli spettacoli con la prigionia di Aldo Moro portata a teatro dal regista e attore tarantino Massimo Cimai assieme all'attore Alessandro Calamunci Manitta grandi applausi al piccolo teatro Cappelli di Martina Franca Un modo diverso di fare teatro la parte recitata miscelata all'interazione con filmati d'epoca e scene appositamente girate alternate all'esibizione sul palco una serata che ha fatto rivivere attraverso molteplici emozioni i 55 giorni della prigionia di Aldo Moro lo statista vittima delle Brigate Rosse è stato interpretato dall'attore tarantino Massimo Cimaglia anche nella veste di regista nello spettacolo Aldo Moro una vita per la democrazia compiuta di Salvatore Tomai grande il successo riscosso nel piccolo teatro comunale Valerio Cappelli di Martina Franca per la stagione teatrale organizzata dal comune in collaborazione con il teatro pubblico pugliese e la produzione di Terra Magica Arte e Cultura protagonista oltre a Cimaglia Alessandro Calamunci Manitta che interpreta il carceriere consulenza artistica di Barbara Gizzi musiche di Andrea Paciletti scene di Paolo Iraci e costumi di Daniele Uccero la prossima tappa sarà a Sarono il 16 marzo in occasione dell'anniversario del sequestro noi parliamo del memoriale di Aldo Moro però ovviamente ci permettiamo di avere un riverbero teatrale una licenza poetica definiamola così dove in questo memoriale diventa non solo il memoriale delle risposte che Moro ha dato ai brigatisti noi quello che abbiamo cercato di fare è di mettere l'uomo Moro al centro in questo momento ci troviamo nel covo delle brigate rosse abbiamo elementi originali perché questa è una Polaroid degli anni 70 il telefono di cui Massimo va estremamente fiero una macchina da scrivere con tanto di comunicato ufficiale dopo il fermo per la pandemia si è conclusa la 279esima edizione della Fiera Pessima di Manduria Laura Milano si è conclusa la 279esima Fiera Pessima di Manduria un'edizione che di pessimo in realtà sembra aver avuto solo la pioggia e il freddo dei primi giorni poi persino il tempo è stato clemente permettendo di registrare oltre 50.000 presenze ospiti, convegni, enogastronomia, agricoltura, commercio, artigianato, turismo e cerimonia oltre alle tradizioni di una terra che vuole solo ripartire il bilancio col sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro è un bilancio positivo che lascia ben sperare per il futuro siamo arrivati a circa 50.000 presenze e questa è una cosa molto importante sia per noi come amministrazione sia per gli espositori che poi è l'obiettivo principale Qual è stato lo stand più visitato? Beh diciamo, ecco, quello del Consorzio di Ure del Primitivo chiaramente il nostro vino l'abbiamo messo molto in evidenza ma anche il nostro sito, il nostro stand del Comune di Manduria dell'istituzione pure Dal punto di vista economico, cosa ha rappresentato questo evento? Allora, intanto l'inizio è quindi dare la, come dire aiutare le imprese a esporre i propri prodotti, le proprie idee e noi speriamo, e comunque l'obiettivo è quello che continui d'ora in avanti Qualcosa che avrebbe voluto proporre in questa 279esima edizione che invece non è riuscito ad introdurre? Allora, diciamo che avremmo voluto, come dire delocalizzare l'evento cioè interessare anche il centro della città questo è un po' immancato e vedremo di raggiungere questo obiettivo l'anno prossimo Non solo l'8 marzo celebrare la donna tutti i giorni è l'intento di una mostra inaugurata proprio nel pomeriggio di ieri a Taranto L'arte per far riflettere sui valori della donna tutto l'anno Vernissage presso la Galleria Comunale del Castello Aragonese di Taranto della mostra d'arte di Rosa Cacace in arte rosaca sarà aperta fino al 20 marzo e visitabile dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20 Alcune opere hanno un riferimento letterario qui ad esempio abbiamo la bisbetica domata perché la scelta? E' la vicenda di una donna che comunque è stata costretta a lasciare il suo essere naturale per essere poi trasformata nella mogliettina obbediente e sottomessa Qui siamo nel filone identità e tra i personaggi che l'hanno colpita e che quindi ha restituito in arte c'è Ippazia di Alessandria Una matematica, una studiosa, un astrologa che però dato che nel suo periodo storico era una donna quindi tutto ciò che faceva era sbagliato e di conseguenza poi è stata trucidata, violentata e anche fino alla fine uccisa In questa seconda sala espongono le corsiste dell'associazione Liberarte proprio di questa artista c'è un aspetto interessante la donna è tutto l'anno proprio per questo non siete partiti l'8 marzo Sono messi in vendita per beneficenza sono dati alla chiesa Madonna delle Grazie l'associazione antiviolenza per la donna quindi se qualcuno vuole anche venire a prenderli i quadri sono esposti Restiamo in tema, si chiama Eccellenza Donna il riconoscimento che Fratelli d'Italia e il partito politico conferisce alle figure femminili che si sono distinte per capacità ed impegno professionale anche un riconoscimento a Taranto, c'eravamo anche noi Nasce da un'idea di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia il premio Eccellenza Donna un importante riconoscimento che viene conferito alle figure femminili che abbiano contribuito alla crescita ed al progresso del paese attraverso la propria professionalità, competenza, impegno e passione a ricevere il premio Eccellenza Donna per Fratelli d'Italia Taranto è stata la dottoressa Maria Rosa Viceconte segretario generale della provincia di Taranto e la cerimonia di consegna si è svolta proprio nella sede dell'ente provincia L'abbiamo reputata degna di questo premio per tutto l'impegno profuso in questi due anni di Covid nel quale ben sappiamo le necessità che avevano tutte le amministrazioni e i cittadini e quindi anche il saper aver saputo coniugare l'impegno anche con la famiglia ci ha resi orgogliosi ecco come partito e quindi l'abbiamo scelta come degna rappresentante appunto istituzionale Inizialmente ho avuto una reazione di incredulità perché mi ha colto di sorpresa mi sono poi emozionata e diciamo questa notizia mi ha dato modo di riflettere sul mio percorso professionale di ripercorrerlo e sicuramente diciamo ho visto dedizione e grande impegno da parte mia A chi vuole dedicare questo riconoscimento? Sicuramente alla mia famiglia, a mio marito, ai miei bambini e anche ai miei genitori in particolare al mio papà E' tutto per Taranto, adesso il telegiornale di Brindisi, i titoli